In collegamento con Fabio Fazio ieri Giovanna Botteri a che tempo che fa avrebbe detto mi vedi con la giacca l'ho messa per te. Con un sorriso torna sul caso che malgrado la coinvolta nei passati giorni la corrispondente della RAI da Pechino è stata infatti oggetto di un servizio di striscia con riferimento al suo look e all'acconciatura. Si è trattato per diverse persone con un episodio di body shaming. Il caso è stato stigmatizzato, molti sui social diciamo che si sono stretti in una chiamiamola stretta di solidarietà nei confronti di Giovanna Botteri rispingendo le parole di Michelle Monsecher. Striscia ha rispinto però le accuse attraverso una nota ufficiale e Michelle stessa ha provato a spiegare che l'obiettivo del servizio era quello di contrastare proprio appositamente gli hater della bella, brava e simpatica giornalista italiana. Insomma questo è quanto, questo sarebbe quanto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro italiano, un narratore italiano.